Tutto è concentrato l'attenzione sull'Imu e Tasi, noi abbiamo già espresso il nostro giudizio, una manovra ovviamente, cioè un taglio che è generale, quindi è per tutti, per chi ha, è per chi ha un pochino di più, per chi ha un pochino di meno, quindi senza nessun tipo di distinzione e sulle altre emergenze e l'altro segno è dato, perché questi sono i due segni a mio avviso, che sono quelli diciamo sui 3.000 euro, quindi sull'alzamento della soglia per il contante, perché dico sono il segno in qualche modo anche simbolico, perché sono una parte, la vecchia tesi, per cui anche un po' propagandistica, che basta semplicemente dal taglio delle tasse può riprendere sempre la ripresa, può esserci la ripresa del Paese e sappiamo da dati Banca d'Italia che questa, dal punto di vista proprio dell'effetto sui consumi praticamente non c'è e l'altra che è un segnale diciamo in controtendenza rispetto anche a alcuni protagonisti che avevano presentato una proposta di legge come il capogruppo Rosato che sul contante per esempio proponeva di abbassarla, di abbassarla a 500 euro, tutti possono cambiare idea ma il segno che adesso si dà è esattamente l'inverso e non è un segno positivo per la lotta anche all'autoriciclaggio e anche all'evasione fiscale. Io chiudo qua e do subito la parola a Uras.